Monica De Gennaro si avvicina il secondo weekend del World Grand Prix. Come è andata le prime tre partite, le tue impressioni? Sicuramente siamo andati in crescita, abbiamo avuto molti alti e bassi durante la stessa partita ma abbiamo visto che comunque ci sono stati momenti di gioco in cui ce la siamo giocata anche con gli Stati Uniti quindi sicuramente questa seconda tappa dovrà essere in crescita rispetto alla prima e vediamo. Altre tre partite difficili contro Cina, Stati Uniti e Turchia. Qualche parola sugli avversari e cosa ti aspetti in campo? Abbiamo già affrontato Cina e Stati Uniti e quindi sappiamo il loro livello e bisogna essere sempre lì e spingere sempre ogni punto contro di loro e la Turchia mi sembra un roster giovane quindi vedremo. Ormai da diversi anni sei nazionale, sei una delle più esperte, che gruppo è questo secondo te? Un gruppo giovane che si sta mettendo in gioco, che ha voglia di divertirsi, di far vedere il proprio valore e quindi potremmo toglierci delle soddisfazioni, ovvio bisogna lavorare ancora tanto ma sono fiduciosa. Se dovessi dire una cosa che funziona già molto bene, ovvero un pregio o qualcosa in cui bisogna ancora crescere? Ma bisogna crescere un po' in tutto, si è visto in queste tre partite, quindi bisogna metterci sotto e lavorare.